Qualcuno potrebbe aiutarmi? Per favore! Per favore! Per favore! Per favore! Per il nome non ho la minima idea, perciò magari fate qualcosa voi qua sotto e soprattutto scusatemi. La noia! La noia! Nei commenti qua sotto magari potete scrivere quale altro meme vi piacerebbe vedere, ho già letto diverse volte Pepe the Frog e anche altri. Spero che questo episodio vi sia piaciuto anche se è molto leggero. Come sempre vi ricordo che in descrizione potete trovare la pagina Facebook e il profilo Ask nel caso vogliate farmi delle domande. E soprattutto se volete supportare il canale, la serie e tutti questi episodi anche più stupidi, mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale o fate come preferite. Detto questo ragazzi ci vediamo la prossima volta, probabilmente sarà un episodio degli appunti di Bill anche se non è certo. Ciao!